Nel settembre scorso era stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Giarre per la rapina commessa insieme a Cristian Longo e danni della banca di credito cooperativo di Pachino, nella frazione giarrese di Tre Punti. Ma il 22enne Francesco Glauco Cosentino, residente a Maschali, sarebbe anche uno degli autori del colpo commesso lo scorso 5 giugno a Giarre, alla filiale della Banca Nuova. I carabinieri della locale stazione sono riusciti ad identificarlo grazie all'attenta analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza installato nell'istituto di credito. I successivi riscontri avrebbero poi fornito agli investigatori ulteriori conferme. Il 22enne aveva fatto ingresso in banca con un complice a viso scoperte d'armato di coltello, fuggendo dopo aver costretto sotto la minaccia dell'arma uno dei cassieri a consegnare 1000 euro in contanti. Il GIP di Catania ha condiviso le risultanze investigative, mettendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del giovane, accusato di rapina aggravata. Dopo il primo arresto, il 22enne in sede di Convalida si era giustificato davanti al GIP di Catania Francesca Cercone, con le difficili condizioni economiche nelle quali si trovava. La giovane età e lo stato di incensuratezza avevano spinto il giudice a concedere gli arresti domiciliari, misura ritenuta sufficiente ad evitare una possibile reiterazione dei fatti. A questo punto la concessione della misura meno afflittiva sembra più difficile. Le indagini dei carabinieri di Giarra intanto proseguono per individuare il complice.